Buona giornata, buona giornata, buona giornata. Buona giornata, buona giornata. Andiamo dall'edizione di Pescara per vedere qual è il titolo in apertura. Cronaca, botte e vendette. Nei guai a 17 anni. Pescara picchiano un coetaneo con la spranga. Arrestati il giudice. Potevano uccidere la fotonotizia. Abruzzo, allarme, uffici postali. Il caso in Parlamento, il Movimento 5 Stelle, dice che ne chiuderanno 274. Ma lente replica, non è vero. Nelle cronache per lo sport, ovviamente, il Pescara crolla ad Empoli. Scoppia il caso Pigliacelli, che è rimasto in tribuna dopo aver di fatto preteso di giocare. Zeman lo ha spedito in tribuna a Pescara, che dunque ieri sera al Castellani è sceso in campo senza un portiere di riserva. Ancora nelle cronache, letto manopello, il ministro Lotti inaugura il campo da calcio con D'Alfonso. Peraltro, questa mattina alle 11, il ministro dello sport, Luca Lotti, sarà proprio a Pescara, nella sala giunta del Comune, per presentare il progetto del nuovo stadio bianco-azzurro. Sempre rimanendo sullo sport, ma sfociando nella cronaca a Francavilla, scontri ultra, in tre restano agli arresti domiciliari. E poi in basso, rimanendo sempre in Abruzzo, finanziamenti alle imprese, agricoltura, scontro sui fondi. Forza Italia dice persi 23 milioni, l'assessore Dino Pepe dice assolutamente falso. Il bilancio della regione, ambiente e sviluppo 104 leggi di Pangrazio, via quelle inutili. All'interno anche il caso che sta scuotendo il mondo del calcio e non solo il calcio in rivolta. Siamo tutti Anna Frank, peraltro ieri sera, prima delle partite e anche questa sera, sarà letto un passo dal diario di Anna Frank in tutti gli stadi, dove si giocano partite di calcio. Ci spostiamo adesso all'edizione dell'Aquila, che cambia ovviamente il titolo in apertura. Gran Sasso, nuova stazione meteo all'Aquila, consentirà di prevedere le nevicate e di monitorare l'eventuale rischio valanghe. Siamo all'Aquila, quindi non si poteva non tornare sulla questione degli scontri in Francavilla all'Aquila. I cinque ultra arrestati tornano tutti in libertà e c'è stato anche uno striscione esposto dagli ultras aquilani in sostegno di coloro che sono stati arrestati. Ad Ortona dei Marsi, treno in veste una mucca, disastro sfiorato a Roccaraso, piste da sci più larghe in alto sangro. Cambiamo edizione, andiamo sull'edizione di Teramo, muore dopo il viaggio della Speranza. Da Tirana a Teramo in ambulanza per operarsi al cervello, ma lo uccide un infarto. Nelle cronache a Roseto, incidente sul lavoro, un operaio perde due dita. Nella foto lo stabilimento della Rolli a Roseto dove è avvenuto l'incidente ad Alba Adriatica. Mezzo PD pronto ad uscire dal partito. Nella foto l'ex segretario del PD di Alba Adriatica, Viviani. A Teramo, teatro, l'ACS ricorre al TAR per le date. Continua la guerra tra ACS e Riccitelli. All'interno, ovviamente, questa notizia del ricorso al TAR. Chiudiamo le quattro edizioni del centro con quella teatina, con quella della provincia di Chieti. ASL via al piano di riordino dei reparti. Schips guiderà l'urologia a Chieti. Modifiche negli ospedali di Ortona, Vasto e Atessa. Nelle cronache, giallo di Frisa, spari contro il portone, ipotesi intimidazione. Il PD ha congresso a Chieti. Tra i veleni, ribelli in corsa ad Ortona. Un'anziana fa scoprire i truffatori. Cambiamo quotidiano. Andiamo sul messaggero edizione Abruzzo. L'apertura è sempre legata alla cronaca, sprangato dalla baby gang rivale Pescara. Due ragazzini di 17 anni in manette per tentato omicidio dopo il pestaggio di un coetaneo nemico. In atto una guerra tra una banda di Porta Nuova e una del centro. A proposito di cronaca, i delitti di Pescara. Oggi in tribunale il killer della psicologa Monia Di Domenico. In alto il ritorno di Alice, turra abruzzese per la Miss Italia che fu tra gli angeli del terremoto. E poi per lo spettacolo le mille facce di Virginia Raffaele. Performance che fa tappa a Pescara. Prove d'inverno, neve e food, il turismo bianco sull'altopiano delle Rocche. Per quanto riguarda la politica, le 44 leggi per l'Abruzzo approvate l'anno scorso. Questa è la curiosità. Il presidente Di Pangrazio, come vedete, è presente il rapporto annuale sull'attività legislativa. A centro pagina, arresti per tre, pugno duro contro gli ultra. Ovviamente parliamo degli arresti per gli scontri prima del derby di domenica in Serie D tra Francavilla e Chieti. Socialmente pericolosi la decisione del GIP dopo gli incidenti prima di Francavilla. L'Aquila, un capotreno aggredito, ancora cronaca, guardie private a bordo di bus e treni, San Gritana. Ma, ovviamente non ci siamo dimenticati della fotonotizia, che riguarda per l'appunto il Pescara. Pescara battuto, giallo del portiere Serie B. Il big match a Empoli finisce 3-1 in rete per i biancazzurri Coulibaly. Ma il giallo è l'esclusione, come vedete, di Fiorillo, di Pigliacelli, pardon, in campo Fiorillo. E Pigliacelli che non va neanche in panchina, ma va in tribuna. L'Aquila, il dibattito, il sindaco Biondi, la città non è intollerante, dice il primo cittadino. Ci spostiamo adesso in provincia di Teramo, uffici postali a rischio chiusura. Il piano discusso in Parlamento ne prevede 36 nel Teramano, ma poste italiane dice nessuna emergenza. Sempre a Teramo, secretata la commissione consigliare sulla Tercop. E poi gli indici sismici, brutta sorpresa, alla Noè Lucidi. La foto notizia, il gambero rosso incoronato Nicoromito, che viene definito il re degli chef. La cucina abruzzese sugli scudi, il Reale a Casteldisangro, migliore ristorante d'Italia. Premiati anche Borgo Spoltino a Selva di Mosciano e Zunica 1880 a Civitella del Tronto. Di spalla altre notizie a Roseto e gli Abruzzi. La ciclo pedonale taglia altri posti davanti ai negozi. A Tortoreto, Piccioni pronto a chiudere la partita PRG. E poi l'esperimento Sox notaresco convoca gli altri sindaci. In basso, per la Formula 2, il Teramano Ponzio vince a Monza e si laurea campione italiana. E dunque complimenti a questo ragazzo. Andiamo adesso sulle prime pagine nazionali per vedere quali sono le aperture. Partiamo dal Corriere della Sera. Stadi, basta, antisemitismo, indignazione. Dopo lo sfregio ad Anna Franca, la lettura del diario prima delle partite. Mattarella, un atto disumano. Lottito, il presidente della Lazio, va in sinagoga. Il rabbino Disegni dice non siamo una lavatrice. Ma il commento di Pierluigi Battista è abbastanza chiaro. Ora, puniteli tutti senza indulgenze. La foto notizia. Andiamo in Honduras. L'isola circondata dalla spazzatura. Guardate nella foto quanta spazzatura c'è davvero in questa isola. In alto, per la politica, legge elettorale, caos al Senato sulla fiducia, MDP Valquirinale, ed esce dalla maggioranza. Per le pensioni, la vita è più lunga. In pensione a 67 anni, la vita è più lunga, l'ha detto l'Istat, sale l'aspettativa di vita. Ma la CGL con la Camusso dice che è una follia da fermare, allungare, ovviamente, accordi più l'età pensionabile. La Repubblica avrà invece con le questioni politiche. Rosatellum, altra fiducia. Parliamo di legge elettorale. Lo strappo di MDP via dalla maggioranza. Mossa del governo. Caos al Senato. Gli esponenti del Movimento 5 Stelle si vendano. Referendum. Il Veneto stoppa Zaia sullo statuto speciale. L'intervista a Di Maio, proprio del Movimento 5 Stelle, che dice Mattarella non sia complice di questa riforma. Dall'altra parte della pagina, il diario di Anna Frank, prima delle partite, ma troppi patti tra calcio e ultra antisemiti. Lotito chiede scusa, inchiesta su 15 tifosi laziali, tra cui addirittura un bambino di 13 anni. Dal 2019, in pensione a 67 anni, sindacati in rivolta, è una follia. L'Istat cresce l'aspettativa di vita. Cambiamo giornale, andiamo sulla stampa. Anche qui la fotonotizia, negli stadi il diario di Anna Frank. Un tredicenne fra gli autori dell'oltraggio razzista, la Lazio in sinagoga, ma rimane il gelo. E poi il reportage sulle spiagge, dove si parte con 400 euro. Da Tunisi all'Italia, la grande fuga degli ex detenuti. L'indulto ha liberato, leggiamo, 2700 persone. Lo scafista, il governo, chiude un occhio e chiederà più soldi a voi per fermarli. Il fatto quotidiano, il fascistellum del bugiardo. 1923-2017, anche in Senato, il governo impone la fiducia sul rosatellum, come Mussolini, sulla legge acerbo. E qui c'è l'ex premier Matteo Renzi, ovviamente con un fotomontaggio. I deputati devono essere scelti tutti direttamente, nessuno escluso dai cittadini. Sono parole di Matteo Renzi in un programma per le primarie DEM del 2012. Ci sono anche altre dichiarazioni. Diciamo che il fatto quotidiano si è capito che non è a favore di questa legge elettorale. Gentiloni addio, MDP al Quirinale, non siamo più in maggioranza. A centropagina l'inchiesta esclusiva, così le aziende telefoniche ci sfilano 2 miliardi di euro. Preglievi occulti, clausole, capestro e tanti altri trucchi che probabilmente saranno capitati anche a molti di voi a casa. Il manifesto dissennato, salvato dalla rottamazione, ovviamente gioco di parole con l'aula del Senato, l'aula di Palazzo Madama, che è stato salvato dalla rottamazione renziana. Ieri il Senato è stato cancellato dalla scelta dissennata del governo di mettere la camicia di forza alla legge elettorale con 5 fiducia e proteste della sinistra e dei 5 stelle, dentro e fuori dall'aula. In alto, in pensione a 67 anni, 11 in Europa, successi di governo. Cambiamo pagina, andiamo sul messaggero, ma all'edizione nazionale. Pensione a 67 anni, ecco la platea. L'Istat fissa al 2019 l'aumento dell'età previdenziale per l'allungamento dell'aspettativa di vita. In 80 mila dovranno rinviare l'uscita. L'Inps, fermare gli scatti, costerebbe 141 miliardi dal 2040. Il calcio con la maglia di Anna Frank, lottito in sinagoga, gelo della comunità ebraica, identificati gli ultralaziali, due minorenni, e invece ad Ascoli hanno pensato bene di dire no al minuto di silenzio. Andiamo in Veneto, il governo frena Zaia, su queste richieste non si può trattare. Dopo il referendum in Veneto di domenica scorsa, no al diktat del Veneto, ok alla Lombardia. Gentiloni, apre. Vediamo a quali condizioni. Il tempo. E adesso puniteli tutti. Sdegno e pugno duro coi laziali per gli adesivi antisemiti, ma le altre tifoserie che fanno altrettanto non pagano mai. Ed evidentemente questa è una scritta non certamente fatta da un tifoso della Lazio. C'è un articolo che è di Marco Gorra che dice sono ebreo e laziale e avrei qualcosa da dire. In basso, vergogna, battisti e libero, la giustizia brasiliana scarcera il terrorista. A questo punto si chiede il quotidiano romano, l'estradizione è più lontana? Libero, non è più tempo per Magnoni. I mantenuti romani pretendono i nostri soldi. A sinistra schiera i suoi governatori, dalle regioni a statuto speciale contro Lombardia e Veneto. L'autonomia non è per tutti, non potete tenervi le tasse, ma Zaia e Maroni rilanciano federalismo fiscale e libertà su 23 materie. Tutto come avevamo previsto, battisti e comunista, si legge, perciò resta libero. A centro pagina, adesso ci vuole la laurea anche per essere gay. A Torino il primo corso universitario sulla storia dell'omosessualità. In basso si torna sulla questione calcio-antisemitismo. Bisogna indignarsi anche quando si insulta Israele. Giusto punire i tifosi che oltraggiano a Anna Frank, purché non paghino solo loro. Cambiamo pagina. La verità. Le tasse del Nord sono del Nord. Dire come fa il PD che Veneto e Lombardia non possono trattenere i loro soldi è una bugia. Nella carta, infatti, è carta costituzionale, ovviamente, sono previsti i trasferimenti dallo Stato centrale alle regioni per le varie competenze. È lì che si gioca la partita vera. Basta balle, rispettate la Costituzione, scrive il giornale diretto da Maurizio Belpietro. Papa Bergoglio umilia il cardinale Nero, ma Papa Ratzinger lo difende. A centro pagina, cronaca, anziano uccise in casa da tre marocchini. I giovani, tra virgolette, si legge, perfettamente integrati, le hanno rubato 30 euro e due collane e poi sono andati a fare baldoria. L'avvenire che auspica una parità da realizzare. Nel 2016 chiusi 204 istituti per invertire la rotta, proposti costo standard buono e misure fiscali. La scuola cattolica presenta il suo diciannovesimo rapporto. Galantino, lo Stato investe di più sulle paritarie. Il ministro Fedeli, un impegno a fare di più. La fotonotizia, la memoria che cura il diario di Anna Frank, sarà letto in campo da Mattarella e Bassetti. Uno stop agli ultra-razzisti. Aumenta l'età media. In pensione più tardi, l'aspettativa di vita a 82,8 anni. La fine del lavoro salirà a 67. Legge elettorale, Rosatellum con la fiducia. Visco verso la riconferma, ma come vedete rissa al Senato. Il mattino si vive di più. Pensione a 67 anni. L'Istat conferma l'aumento dell'aspettativa di vita. 80.000 persone dovranno rinviare l'uscita. La politica, legge elettorale, fiducia anche al Senato. MDP al Colle. Noi, dicono, siamo fuori dalla maggioranza. E chiudiamo con il sole 24 ore. In pensione, cinque mesi più tardi. L'Istat aumenta l'aspettativa di vita. La vecchiaia sale a 67 anni. Aumento previdenziale che scatterà dal 2019. I sindacati contrari chiedono il blocco degli automatismi a centropagina. Lavoro sui distacchi. Nuove regole in Europa. Retribuzione, indennità e bonus dei paesi di destinazione in basso. MPS, Monte dei Paschi, oggi in borsa. Attese pressioni sul prezzo dopo dieci mesi di stop. Fiducia del mercato al test. Lo Stato avrà quattro anni per riprivatizzare l'istituto bancario. Andiamo adesso sulle pagine dello sport. Partiamo dalla Gazzetta con il titolo che riguarda l'Inter. Sempre più Inter. Ieri sera l'anticipo della giornata infrasettimanale di campionato. Batte la Sampdoria 3-2 e scavalca il Napoli. Neroazzurri per una notte in testa alla classifica di Serie A. In alto la vergogna antisemita responsabile identificati. Il calcio legge. Anna Frank e poi il retroscena. Quella curva di estrema destra nata negli anni settanta. Eagles irriducibili. Viaggio alle origini del turbolento gruppo. Andiamo adesso sulle altre questioni perché questa sera si conclude, si completa con tutte le altre partite. la giornata di Serie A in casa Juve. Agnelli, Juve ha ancora fame. Primo obiettivo il settimo scudetto. E poi c'è questo battibecco tra Agnelli e l'ex allenatore della Juventus Conte. Il presidente bianconero dice Champions almeno i quarti. Allegri bravo nel lavoro che ad altri sembrava terminato. Conte risponde, servirebbe riconoscenza. In casa Milan, Milan, Montella si gioca tutto tra gli spifferi. Posso incidere? A Verona il tecnico rossonero punta su Kalinic per ritrovare i gol. Romagnoli e Bonucci sui social dicono il nostro litigio solo tante falsità. In basso c'è anche ovviamente spazio per la Serie B. Serie B, Scivolone-Venezia, Empoli solo in vetta, Risveglio-Palermo. E poi per la moto, il leader di MotoGP e Formula 1, Marquez e Hamilton, eroi dei due mondi. Eurolega, show di Doncic, fresco campione d'Europa con la Slovenia, Milano bella a metà con il Real. C'è il terzo K.O. Corriere dello sport, Freccia-Inter. Doppio i card di 3-2 la Samp, Spalletti al primo posto. Stasera si attende la risposta della Napoli che giocherà contro il Genoa. In alto Lite-Conte-Agnelli, il presidente punge il tecnico. Allegri ha portato avanti un lavoro che ad altri sembrava terminato. Replica del tecnico del Chelsea, ingrato e immaturo l'Assemblea Juve. Bilancio record, ma anche i veleni di spalla. Il calcio porta Anna Frank negli stadi. Oggi un minuto di riflessione su tutti i campi. Identificati 15 ultra, 1 a 13 anni. Mattarella dice un atto disumano. Visita di Lotito in sinagoga, ma con il rabbino e gelo. Milan, tensione Montella, il tecnico agitato. Troppi spifferi. Chievo decisivo, deve assolutamente batterlo. Serie B, Palermo, Chebalzo passa a Carpi e va in zona A. Zeman, crolla. Colpo, invece, Salerno. Tutto sport. C'eravamo tanto amati. Mutuando il titolo di una famosa trasmissione del fine anni Ottanta e inizio anni Novanta. Botta e risposta a Agnelli Conte. Il presidente parla all'Assemblea degli azionisti. Il tecnico replica dall'Inghilterra. Stasera lo stadium. Sfida speciale per Massimiliano Allegri. Ma quell'addio, come si legge, scrive Guido Vaciago, è un nervo scoperto. In alto. Inter, brividi e primato. Dominio per un'ora. Scrignard, doppietta di Cardi. Due pali e una traversa. Poi la Samp sfiora la rimonta, ma finisce 3-2. Il caso, il calcio onora. Anna Frank. Per il Torino, Mijailovic scivola, chiede chi è Anna Frank. Insomma, non una bellissima figura quella che ha fatto il tecnico del Toro. Di spalla. Milan, Gattuso, Sosa e Mazzarri. Montella vede i fantasmi. Il colchievo, il tecnico rosso-nero. Si gioca la panchina. Con questa prima pagina noi chiudiamo anche la prima parte di mattino 6. Adesso spazio alle previsioni del meteo, pubblicità e poi torniamo per entrare all'interno dei quotidiani. Seconda parte di mattino 6. Adesso siamo pronti per entrare all'interno dei quotidiani di casa nostra, il centro, il messaggero e la città per vedere le principali notizie della nostra regione. Partiamo dal centro con la questione che riguarda le poste in Abruzzo che diventa un caso politico. Perché diventa un caso politico? Il Movimento 5 Stelle che dice uffici postali a rischio chiusura. Malente invece rassicura tutti. Colletti ne perderemo 274. Melilla e Liccheri rincarano le poste. Risponde. Cambia solo la consegna. Sull'altra pagina, investimenti e polemiche, agricoltura e scontro sui fondi. Febbo di Forza Italia, la regione non li spende persi 23 milioni. L'assessore Pepe dice. Lui, quando era assessore all'agricoltura, ha fatto peggio. Entriamo proprio sulla pagina Abruzzo perché la regione tira le somme. Ambiente sviluppo. 104 nuove leggi. Dal 1983 entrate in vigore 3.550 disposizioni. Il Presidente del Consiglio di Pangrazio dice ora abroghiamo quelle che evidentemente sono inutili. E qui ci sono le tabelle riassuntive per spiegare un po' quali sono stati i 350 progetti di legge, le 104 leggi approvate, i macrosettori dell'intervento legislativo. Insomma, per gli amanti delle statistiche il massimo. In basso, Letto Manoppello, arriva Lotti e D'Alfonso lo ringrazia. Il Ministro Lotti sarà, come detto anche precedentemente, questa mattina a Pescara per la presentazione del progetto del nuovo stadio del Pescara e poi nel pomeriggio sarà proprio a Letto Manoppello, praticamente a casa del Governatore D'Alfonso, anche qui per un'inaugurazione dello stadio comunale Giuliano di Pietrantonio, di Letto Manoppello. Cambiamo pagina. A Pescara, giovani violenti, botte con una spranga, arrestati due diciassettenni. Hanno picchiato un coetaneo dopo la discussione in uno stabilimento. Il giudice dice che potevano uccidere, la vittima ha cercato di farsi giustizia. E questa è una notizia che troviamo anche sulle colonne del messaggero Pescara. Guerra tra baby gang e minorenni arrestati per tentato omicidio. Due diciassettenni di Portanova in manette per il pestaggio di un coetaneo appartenente a una banda di Pescara Centrale. E proprio su questa vicenda vediamo il servizio. Arrestati dalla polizia con l'accusa di tentato omicidio dopo aver aggredito e malmenato lo scorso luglio un sedicenne in uno stabilimento balneare di Pescara, in manette sono finiti questa mattina due diciassettenni su disposizione del GIP del Tribunale dei Minori dell'Aquila. Denunciata per lesioni a piede libero a sua volta la vittima che per vendetta dopo qualche settimana, ma almeno uno dei suoi due aggressori. Dispiace essere stati costretti ad adottare una misura estrema qual è quella detentiva nei confronti di due ragazzi che a quell'età dovrebbero stare sui banchi di scuola o comunque in famiglia. Però purtroppo è una misura che si è resa necessaria per interrompere un'escalation di violenza che poteva avere conseguenze ben peggiori. Quindi la Procura dei Minori, d'intesa con il Tribunale, ha voluto agire in questo senso per mettere un freno a questa spirale di violenza che stava rischiando di diventare incontrollabile. Hanno agito forse non avendo pienamente il senso e la contezza di quello che commettevano, della gravità dei loro gesti. Il tutto è nato da una banalissima lite, poi questi contrasti si sono inaspriti, c'erano due gruppi contrapposti che ne avevano fatto anche una questione territoriale perché è proveniente da due zone diverse della città, il risultato però alla fine è che c'è un ragazzo che è stato ferito seriamente, è stato colpito più volte al capo con una spranghe e quindi ha rischiato anche la vita. Indagini che sono concluse? Per il momento sì, però c'è ancora un episodio al vaglio della Procura che è la terza aggressione che c'è stata quando la vittima del pestaggio più grave poi ha deciso di vendicarsi facendosi giustizia da sola. Quella è ancora sotto la lente di ingrandimento della Procura. Rimangiamo un po' su questi fatti perché non c'è solo questa aggressione ma c'è anche la questione della coltellata al liceo Marconi, partono le querele incrociate, anche la ragazza accusata sporge denunce. Viene definita una scuola violenta, il macro settore, ma come vediamo anche sul centro l'Itea Scuola parla la sedicenne, mi sono solo difesa, l'aggressione al liceo Marconi. C'è anche il parere dell'esperta, la psicologa Catapane, la responsabilità è sempre del mondo degli adulti. La psicologa specializzata in età evolutiva sul caso dei ragazzi arrestati si poteva evitare con l'osservazione e il dialogo, ma ogni adolescente, dice, è recuperabile. Cambiamo pagina, rimanendo sul centro e rimanendo a Pescara. Il ladro delle mance, prima ruba e poi finge di telefonare. Furto nel bar Napoli di Via Muzzi, ripreso dalla telecamera, il giovane si è allontanato in bici. Bottino di circa 100 euro e queste sono le immagini. Prima ruba la bottiglia delle mance e poi fa finta di telefonare. Polizia Municipale, picchetto d'onore per l'addio a Luigi Bosco, capitano comandante di 65 anni della Polizia Municipale di Manopello, che per oltre 25 anni è stato in servizio a Pescara. Piazza San Francesco in auto contro il muro della Fontana di Summa. Malore davanti all'ospedale invece, doppio arresto cardiaco salvato dal 118 e poi ricoverato. Sempre a Pescara parte la marchiatura delle biciclette per ridurre il rischio dei furti. Il Comune ha acquistato l'apparecchio per apporre gratis una targa indelebile sui mezzi e due ruote. Il primo esperimento sabato in Piazza Salotto. Poi il servizio diventerà stabile dall'anno prossimo. A centro pagina parcheggi super scontati per le auto ibride. Sì, della Giunta, gli incentivi per i mezzi ecologici. Abbonamenti annuali per la sosta al prezzo di 60 euro. E poi in basso invece divieti in centro agli incroci attivati i cartelli luminosi in funzione di display nelle ore a traffico limitato, nelle zone a traffico limitato, pardon, controllate dalle telecamere. Sempre a Pescara. Corsi per trovare lavoro a disoccupati e immigrati. Riparte il progetto del Comune per aiutare le persone più fragili a integrarsi. Tirocini di sei mesi a Pescara e Spoltore. L'intervento sarà finanziato dalla Regione. Cerimonio in sala Giunta. Consegnati gli otto defibrillatori agli impianti sportivi comunali. In basso, sì alla nuova Pescara, ma la legge non va. Guerino-Testa, la fusione dei tre comuni deve coincidere con le elezioni di maggio 2019. Niente ripensamenti. E c'è proprio il capogruppo della lista civica Pescara in testa che interviene nel dibattito sulla nuova Pescara. Proprio articolo firmato, lettera firmata proprio dal capogruppo di Pescara in testa. Cambiamo pagina. Parti prematuri. Cresce la percentuale in Abruzzo. Aumentano i casi di nascita entro le 37 settimane di gravidanza. I rischi connessi nel Pescarese sono state 300 negli ultimi 4 anni. SOS alla Regione. In alto, via la Guardia Giurata, non è un centro militarizzato, centro di salute mentale. L'appello di carrozzine determinate. Oncoematologia pediatrica, terapia ricreativa per aiutare i piccoli malati a guarire. Andiamo a Montesilvano. Impianto incompiuto. Bocciodromo, via libera all'opera, attesa da 17 anni. Il Consiglio Comunale approva una mozione di Di Stefano per ultimare i lavori. Aliano decisivo l'accordo dei giorni scorsi con la ditta e l'assessore Cozzi. Di Spalla, scontro a sinistra. Di Sante, PRC, ma è più intese elettorali con questo partito democratico. A Spoltore, in basso, il neocoordinatore DEM è fedele. Elezione, nuovi direttivi. Pianella riconferma a Filippone. A San Giovanni Tiatino c'è il bis di Orsini. A Francavilla, gli scontri fuori dallo stadio. Solo in tre restano ai domiciliari. Udienza di convalida al Tribunale di Chieti. Il giudice Ribaudo dispone obblighi di firma e d'aspo per gli altri quattro tifosi indagati. E di Spalla, convalida per quattro. E all'Aquila il giudice rimette tutti e cinque gli indagati in libertà. In basso, addio Lolita e Labrador più amato. La mascotte di Cepagatti investita da un'auto. Ogni mattina ritirava una copia del centro. Evidentemente anche Lolita, lettore affezionato. Letto Manoppello. Per lo stadio c'è Lotti. Oggi nel paese del governatore di D'Alfonso. Taglio il naso con la partecipazione straordinaria del ministro dello Sport. e il programma della visita in Abruzzo a pescare il progetto del nuovo stadio adriatico. A Scafa, il vice sindaco di Fiore si dimette dal PD. Scontro nel circolo che ha eletto a segretario Donatelli. Non mi hanno consentito di votare. In basso, defibrillatore donato a Real Catignano e poi 104 anni di Giselda, pronipote del poeta. Festa in casa, Stromei. Prima di cambiare provincia, continuiamo con la lettura del messaggero, tornando a Pescara. Nuovo stadio. La benedizione di Lotti e i dubbi dell'ex assessore sul progetto. L'ex assessore è diodati. È anomalo che il comune esposi un'iniziativa privata senza pensare invece al recupero, al futuro di quello che è lo stadio adriatico. Per la cronaca, l'irruzione. Un tunisino scavalca un cancello e fa irruzione negli uffici della questura. L'uomo è stato bloccato. Nella pagina accanto, tasse non riscosse, aperto il processo, caso Soget. Le accuse sono abuso d'ufficio e falso ideologico. Quattro gli imputati, Mazzocca, Sospiri, Monaco e Ludovico. Durante le indagini trovato un file con nomi di politici debitori, ma la scoperta non ha avuto seguito. Non ci fu corruzione. Alice Rachele torna a Miss Italia. Ero tra i soccorritori all'Aquila. La Arlanche, oggi da Berardo, nel 2009 faceva parte dei volontari dei Vigili del Fuoco. E sono ricordi indelebili. Sempre a Pescara, in tribunale, il killer della psicologa Giovanni Iaccone, l'inquilino moroso accusato dell'uccisione di Monia di Domenico, chiede rito abbreviato e perizia psichiatrica per l'imputato e l'unica mossa possibile nel tentativo di evitare l'ergastolo. La consulenza di parte parla chiaro, dice l'avvocato. Scafa, il vice sindaco dice addio al PD. Queste sono le spine dei partiti. A centropagina, Nuova Chiesa, la maggioranza non ha i voti. In basso, Virginia Raffaele a Pescara, una tappa sul filo delle radici. Andiamo all'Aquila. Il sindaco Biondi replica, non spira nessun vento di inaccoglienza. Avventato è pregiudizievole immaginare distinzioni tra città sana e città insana. Affermare che sia germinato il seme del razzismo è un'analisi superficiale. A centropagina, Nuove Convenzioni, buoni mensa scolastici, addio alle code per l'acquisto. In basso, traffico di informazioni tutti assolti. Per i carabinieri, il generale Miglioli, scuola sotto ufficiale, ieri in visita al comando provinciale proprio di L'Aquila. Rimaniamo nel capologo di regione, allevatori, una specie in estinzione. Due critiche al progetto Life Praterie del Parco del Gran Sasso non ha prodotto alcun tipo di beneficio al nostro settore. Dal 2012, realizzati numerosi interventi e regolamenti per la tutela e la conservazione degli habitat dei pascoli e delle praterie di quota. L'iniziativa, primo corso di manovre di disostruzione pediatrica. E poi a San Demetrio, il primo matrimonio gay. La nuova coppia attivista nel circolo arcigheia-aquilano. In paese ci hanno festeggiato tutti. Andiamo nella Marsica, ad Avezzano, nuovo comune. Il PM condannare tutti. Erika Guerri, della Corte dei Conti, ribadisce la richiesta nei confronti dell'ex Giunta Comunale Tecnici di Avezzano. Gli avvocati difensori puntano invece sulla soluzione totale. Non si esclude la prescrizione. Rischiano Santorio, Ridolfi e De Santis. La fotonotizia potenziata e messe in sicurezza le piste da sci. E quella che vediamo è la stazione di Pizzalto. Attacco hacker sul Mona, la centralina di controllo del traffico. Il danno per le casse del comune è elevato in azione. I sostitutivi telelaser. Ad Avezzano, Santa Croce sarà una riapertura a metà. Andiamo adesso sulle colonne del centro per il piano di riordino a Chieti. Schipsa, la guida di urologia, l'ASL cambia i reparti. Piano di riordino. Partono le modifiche negli ospedali di Chieti, Vaste, Ortona. Da Tessa chiude medicina. Il direttore Flacco. Una rimodulazione tecnica. Non ci saranno problemi per l'utenza. A centro pagina, 100 firme sul distretto sanitario cadente. A Chieti Scalo nasce un nuovo comitato di cittadini. La prima battaglia è per la struttura di via Delizio. In basso, Anziana, fa a cogliere i truffatori sul fatto. Ortona, in due cercano di spillarle 5.000 euro, ma lei non ci casca. Fa finta di consegnarli e invece nel frattempo chiama le 112. Cambiamo pagina. Università d'annunzio e ricorsi. Il giudice, 170.000 euro a Del Vecchio. Ecco l'ipotesi transattiva. Per evitare il reintegro dell'ex direttore generale. Ora, manager e Ateneo dovranno decidere se accettare. Al campus partono i lavori ai bagni. Pescara stoppa le barriere per disabili. Reginaldo, nuovi fondi per la Piana. Siamo a Rocca Montepiano. L'arrivo a 865.000 euro per proseguire i lavori proprio nella contrada di Rocca Montepiano. Andiamo all'Aquila adesso. Abbiamo già visto come tratta il messaggero la pagina aquilana. Adesso vediamo sul quotidiano del centro. Campo Imperatore. Una nuova stazione meteo. L'impianto consentirà di prevedere le nevicate e monitorare il rischio di Valang. E ovviamente, soprattutto memory di quello che è successo all'inizio di quest'anno, è sicuramente una buona notizia. Venti a oltre 180 km all'ora sul Gran Sasso. A quota 1950 metri. In basso ricostruzione. Ecco le istanze dei sindaci. Beni demaniali. Case provvisorie. Risorse degli SMS. Vertice in regione. Il problema delle tasse. A Teramo, Camera di Commercio. L'Aquila della sede è inutile ridiscutere. Tutto è già deciso. Presidente Santilli stoppa il collega di Teramo, Lanciotti, ma lo difende dagli attacchi. Insieme abbiamo salvato tutto quello che potevamo salvare. Basta con le inutili guerre di Campanile. E poi la polemica sulla regione pescarocentrica. Al Teramano ho dato più soldi. PD spaccato. Il governatore D'Alfonso replica così a Mariani. In basso per la cronaca. Operaio perde due dita in una macchina. Roseto incidente alla Rolli. Il 23enne è ricoverato ad Ancona. I chirurghi tentano di riattaccarle. Ma evidentemente non sarà per nulla semplice. Andiamo adesso sul messaggero. Ritornando alla pagina di Chieti perché si torna alla questione Francavilla-L'Aquila. Tre ultra restano agli arresti. Sono socialmente pericolosi. Domiciliari disposti per i tifosi giallorossi. Con presenti in arrivo altre denunce dei carabinieri. Per altri quattro francavillesi leggiamo. Scattano l'obbligo di firma il DASPO. Dopo la convalida cinque Aquilani sono invece già tornati in libertà. Di spalla. Barriere architettoniche. La d'annunzio dice stop. Questa è la decisione del Senato accademico. all'auditorium del rettorato Cavarè diversamente comico. In basso. Casa dello studente. Il progetto al vaglio del Ministero. Vediamo di che cosa si tratta. La Pierantoni. Il sopralluogo dei funzionari accompagnati da Di Primio e Di Battista. E questa è la foto del sopralluogo. Cambiamo pagina. Andiamo a Vasto. Guardie private su treni e autobus. Decisione della Sangritana. Dopo l'aggressione a un capotreno da parte di un gruppo di ragazzi di colore. Trovati senza biglietto. I controllori dicono che è una situazione sempre più critica. Con questa misura tornerà la tranquillità. Ad Ortona. Truffe agli anziani. Denunciati due napoletani. Ovviamente sempre per la cronaca. A Lanciano, Sevel, sia i licenziamenti dei furbetti della malattia. E poi a Lanciano, Central Park, Pino Valente, dedicato all'ex vicesindaco scomparso qualche giorno fa. Un milione di euro dalla regione. A Lanciano, ancora cronaca, rapina aggravata. Giovane in carcere. Il cugino ventunenne domiciliari. La donna si era ferita durante l'inseguimento. In basso, a Lanciano, Tari per l'Ascom. Le tariffe sono illegittime. A Teramo. Vertenza Tercop. Nulla di fatto per i 28 lavoratori. Ancora in bilico. In commissione scoppia la bagarra. Sindaco e assessore non si presentano. Sindacati restano ancora in attesa. L'amministrazione invia segnali di pace. A Civitella del Tronto tentò il furto nella casa di un carabiniere e poi girava in piazza. Arrestato per evasione. In basso, scuole a posto gli indici Noelucidi e Michelessi. Dall'altra parte con l'atterrato alto, senza internet veloce. A Giulianova. Uniti da Facebook. Poi lui la deruba e l'abbandona. Il fatto si è verificato ieri mattina in città. Una ragazza marchigiana ed un rosetano si erano dati appuntamento e poi manca il lieto fine. Lei è scesa per comprare le sigarette al bar, ma al ritorno erano scomparsi. Lui con l'auto, con giacca, borsa e documenti di lei. Insomma, abbastanza ripulita. Giulianova. Auto del Comune sugli spazi dei bus. Multata, ovviamente. Vibrata. Viviani fatta allontanare dalla cabina di voto del Partito Democratico. In basso, a Notaresco, esperimento Sox, possibile ricorso al Tar. Prima di entrare a vedere le pagine di sport, diamo una rapida occhiata anche alla provincia di Teramo, guardando le colonne del quotidiano La Città. Secretata la commissione sulla Tercop, segretario generale allontana giornalisti, sindacati e soci lavoratori. Dalla riunione pubblica, la reazione, alcuni consiglieri si alzano e abbandonano la riunione consigliare nel silenzio del presidente Covelli. Cambiamo pagina. La politica, il congresso democratico è ancora aperto. Altro che pacificazione, il PD provinciale sembra ancora più spaccato dopo il voto dei tesserati. Indici sismici, brutta sorpresa alla Noe Lucidi. Dopo aver speso più di 2 milioni e mezzo di euro, si scopre che la scuola non raggiunge nemmeno la soglia minima di 0,65. Vedete, questi sono gli indici sismici. 0,617. La scuola Michelessi, dall'ingresso di Viadati, 0,284. Con l'atterrato alto fuori dalla banda larga, 3 mila cittadini senza possibilità di internet veloce, protesta il comitato. A Teramo, Buche, Fracassa, Vara, il cantiere intelligente. Dai fondi della rete gas, Asfalti e San Pietrini, in via D'Annunzio, via Milli, circonvallazione Ragusa e Corso di Porta Romana. In provincia di Bonaventura, convoca i sindaci Teramani, il primo cittadino di Notaresco, chiede più impegno in vista della mobilitazione per l'esperimento. A Tortoreto, il sindaco Domenico Piccioni, che dice, siamo più pronti a chiudere la partita del PRG. Il sindaco vuole portare in Consiglio Comunale le osservazioni dei cittadini. Il giudice nomina un consulente per il plagio al dottor Paolo De Cristofaro, contrastanti le versioni degli esperti di parte durante l'udienza di ieri. E poi ad Atri, lavori nelle scuole ancora fermi al palo, il comitato dei genitori invia la documentazione a Luciano D'Alfonso. A Pineto si torna a discutere del progetto per la città turistica del futuro. A Roseto, pista ciclabile, il cantiere ruba i parcheggi alle attività. Preoccupazione tra i commercianti rosetani per l'intervento in avvicinamento al lungomare Trento. Adesso andiamo a vedere le pagine dello sport. Partiamo ovviamente dal Pescara. Pescara inguardabile. Vivarini dà una lezione di calcio a Zeman. L'Empoli vince con merito allo scontro al vertice ed è primo da solo. Scoppia il caso Pigliacelli. Scelta disciplinare. Il portiere va in tribuna. Le parole del post-gara coda Pigliacelli. I panni si lavano in casa. Il difensore è brutto. Primo tempo. Ora bisogna reagire. Sabato all'Adriatico. Il Brescia dell'ex Pasquale Marino con le rondinelle sarà ancora assente il centrocampista Proietti. Vediamo anche le pagelle. Papera di Fiorillo ma è il migliore. La papera evidentemente sul terzo gol. La Empoli fallisce. Il collettivo, il portiere, tiene in gara la squadra. Poi sbaglia sul 3-1 per Rotta Ingenuo. Sul fallo dà rigore. Vediamo allora alcune pagelle. Fiorillo 6 è il migliore. Quindi ha praticamente quasi tutte insufficienze tranne che per Fiorillo a punta e per Coulibaly che è autore del gol che si pensava potesse riaprire la partita. 2-1 poi evidentemente non è stato così. In Serie B bene Frosinone e Palermo. Perugia K.O. vi ha giunti. Poker è secondo posto per i Ciociari. Rosanero ok a Carpi. Tris del Parma a Foggia. Accade il Venezia. Vediamo come affronta il tema Pescara il messaggero Pescara. Questi sono vecchi difetti. Brutta prestazione della squadra Bianca Azzurra battuta nettamente 3-1 dall'Empoli di Vivarini. I Toscani affondano in spazi enormi e creano tante occasioni inutile. La rete di Coulibaly. Vediamo anche il caso Pigliacelli. Escluso dall'allenatore per motivi disciplinari. Nessun portiere in panchina. In basso le parole di Andrea Coda. Il gol in avvio ci ha condizionato la gara. Severo Brugman. Non riesco a capire cosa sia successo. Dovremmo interrogarci su molte cose che abbiamo sbagliato. le parole anche di Zeman che dice siamo stati troppo lenti nel costruire gioco. Allora adesso ci vediamo il servizio di Empoli Pescara 3-1 di Paolo Renzetti e poi le parole a fine gara di Zeman e di Vivarini. Vediamo. Nella sfida fra i due attacchi più prolifici della Serie B e tra i due capocannonieri del torneo Pettinari e Caputo fa festa l'Empoli che si aggiudica con pieno merito l'intera posta al termine di 90 minuti dominati per lunghi tratti dalla squadra di Vincenzo Vivarini che mancando diverse occasioni ha poi permesso nel finale al Pescara di Credici di accorciare nel punteggio prima del definitivo 3-1 di Caputo. Per il Delfino una serata negativa iniziata male con l'esclusione di Pigliacelli per motivi disciplinari è finita in modo ancora più amaro con il K.O. sul campo. Zeman cambia per l'ennesima volta formazione lasciando in difesa Zampano in panchina per Crescenzi e richiamando dall'inizio coda per Bovo. In attacco ancora fuori Benali con del sole mancuso esterni al fianco di Pettinari punta centrale. In curva sud un centinaio di tifosi biancazzurri il settimo e Crunic in area abruzzese a scaldare i guanti di Fiorillo. Il Pescara si muove bene ma l'undicesimo Caputo a chiamare il portiere pescarese alla respinta. Al quattordicesimo Fiorillo non può però nulla sul colpo di testa di Ninkovic che sul cross di Pasquale salta indisturbato in area mettendo la palla in rete. Per Ile Pescara così come sabato scorso inizio di partita ad handicap. I ragazzi di Zeman accusano un e poi il colpo e la reazione tarda ad arrivare. Non tardano invece le opportunità per i locali che si rendono pericolosi per tre volte in due minuti. Al ventinovesimo Pasquale chiama su punizione Fiorillo alla deviazione in angolo. Passano pochi secondi ed è caputo ad arrivare vicino al 2-0. Pescara non pervenuto in attacco che al 34esimo fa ancora peggio con il fallo di Perrotta in area di rigore su Krunic. Ile Penalti appare piuttosto netto con Caputo che dagli 11 metri non sbaglia per il raddoppio. Nottefonda per Ile Pescara fino al termine del primo tempo non riesce mai a concludere verso la porta di Provedel. Nella ripresa Zeman manda in campo Benali al posto di Del Sole in campo però Lempoli rischia di dilagare Zeman al 28esimo manda in campo Pulibali per Palazzi mentre Lempoli al 31esimo con Zaic arriva ad un passo dalla 3-0. La formazione adriatica è più reattiva del primo tempo empolese che si salva in calcio d'angolo. La gara ora è finalmente più palpitante anche con il Pescara finalmente rabbioso che si rende pericoloso ancora al 35esimo con Benali che sfiora il 2-1 prima dell'azione di Krunic che manca il Tris e così al 38esimo arriva la rete del 2-1 di Pulibali che rianima squadra e tifosi anche se per qualche minuto prima della papera di Fiorillo che al 41esimo regala invece la rete del 3-1 Caputo per il Pescara e l'epilogo amaro di una serata da dimenticare e scossa anche dal caso Pigliacelli che farà sicuramente discutere in settimana. Eh sì dovevamo cercare di recuperare abbiamo fatto qualche cosa però abbiamo lasciato qualche contropiede a Empoli che era normale è un peccato che abbiamo preso brutto gol su punizione però fa parte del gioco. Sicuramente non abbiamo ritmo di quello che vorrei sulle giocate perché perdiamo troppo tempo cominciamo lenti da dietro e quindi poi è difficile andare contro difese chiuse a fare qualche cosa noi dobbiamo ripartire più veloce possibile non ci riesce anche se oggi per me a centrocampo hanno cercato di costruire però è troppo lento. Non lo so oggi perché eravamo sotto quindi dovevamo cercare di fare qualche cosa di più primo tempo penso che la volevano controllare ma non l'abbiamo controllata non siamo squadra che può controllare le partite e che può giocare sotto ritmo ripeto per me è importante ritmo non credo che problema di fisico perché secondo tempo ce l'hanno ci dobbiamo abituare c'era qualche problema disciplinare è una diciamo un problema che si potrà ricoporre entro poche ore in vista della gara con il Brescia se il ragazzo cambia atteggiamento che è difficile parole dure quelle di Zeman che come vedete torniamo sul centro scarica pigliacelli serve rispetto il boemo manda il portiere in tribuna non ci si comporta così con il gruppo il futuro ora dipende solamente da lui abbiamo giocato sotto ritmo e ci siamo svegliati troppo tardi ma vediamo la classifica che comunque il Pescara manca l'aggancio al primo posto ma è a 16 punti a solo a meno 4 comunque dall'Empoli che da ieri sera ha la vetta solitaria della classifica di serie B in serie C scommesse anomale sul match del Teramo Ira del Sant'Arcangelo i nomagnoli chiamati in causa in altre gare attaccano la Federbet intanto Fratangelo sogna il bis con l'Albinoleff Ultra dell'Avastese danneggiano Autogrill Sarni serie D la società solidale con il vicepresidente Carmine Sarni che è proprio vicepresidente dell'Avastese dopo l'episodio di domenica di ritorno dalla trasferta vittoriosa di Pesaro in basso l'Italdonne travolge la Romania a Castellisangro ieri l'Italia femminile bene molto bene a Castellisangro contro le omologhe rumene moto d'annunzio chiude il 2017 con un dodicesimo posto sul parliamo adesso di basket perché Roseto ecco la prima multa cianchetti ora basta lancio basket serie A2 core e lancio di oggetti costano 810 euro alla società bianco-azzurra il vicepresidente dice spero che certe cose non accadano più perché gli sponsor si allontanano per il calcio a 5 di spalla Pescara sciupone la Lazio ciuffa il pari sfuma il secondo posto andiamo sul messaggero anche qui lo spazio per il calcio a 5 il Pescara sprecone butta via il primato bianca-azzurra in vantaggio fino a pochi minuti dal termine con la Lazio in trasferta si lasciano rimontare nel finale finisce 3 a 3 calcio il ritorno di Fratangelo un'arma in più per il Teramo ad Avezzano Serie D il nuovo ruolo esalta il Baby Deramo autore di una doppietta a Fabriano domenica scorsa di Spal Fiore la mia bastese ora più personalità doppietta per Nicola Fiore bastese doc tra le altre cose in basso Roseto arriva alla maximulta rinforzi se ne parla dopo Forlì e con questa notizia chiudiamo questa edizione di Mattino 6 che torna domani puntuale alle 8 alle 14 invece l'appuntamento con il TG6 per tutte le notizie della nostra regione è tutto buona giornata grazie a tutti Grazie a tutti.